Mi scusi, dica lei. Antani, come se fosse Antani, anche per il direttore, la supercazzo ha uno scappellamento. Come? Adesso. Fermensita, amore mio, io sono uomo d'affari. Brinda la supercazzo, la prematurata, non è una cosa da segni. Terapia tapioca, tapioca terapia, dollari, sterline, allaccia, scarpa, scarpa, allaccia di cosa, albergo. Il reverendo Bernocchi. Ah, perdon. Terapia tapioca, come se fosse Antani, la supercazzo, la prematurata, condominus, viscum, blinda. Come, prego? Terapia sulla supercazzo, lo scappellamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra. Antiboli. Che c'è? Blinda la supercazzo, la con un scappellamento a sinistra e a destra, come fosse di pentolone. Non ho capito un cazzo. Ecco, è l'informazione che volevo.